Il finale felice di Endless Love Accettare la morte di Kemal è stato un colpo durissimo per i fan di Endless Love, una ferita che sembra non guarire mai. Questo sentimento di perdita ha avvolto gli spettatori ben oltre il finale della serie. Tuttavia, la creatività e la passione dei fan non si sono fermate qui. Sui social media sono fiorite numerose versioni di finali alternativi, inventati proprio da chi non ha mai smesso di sperare in un esito diverso per questa travolgente storia d'amore. Oggi, qui su Serie TV nel mondo, vogliamo dar vita a queste visioni alternative e offrire un barlume di speranza a tutti coloro che ancora sognano un lieto fine per Kemal e Nihan. Prima di immergerci in queste narrazioni piene di potenzialità e cosa sarebbe potuto essere, ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi neanche un episodio delle vostre serie preferite. Ripercorriamo ora l'episodio finale di Endless Love. Emir, nel suo piano più crudele, rapisce Denise, la figlia di Nihan. Nihan e Kemal si precipitano a salvarla, ma si trovano di fronte a una scelta terribile orchestrata da Emir e dal suo complice Mehmet. Nihan è costretta a sparare a Kemal per salvare sua figlia. Tuttavia, quello che nessuno sa è che Kemal, prevedendo un possibile agguato, aveva già allertato la polizia e indossava un giubbotto antiproiettile. Nonostante la loro preparazione, Emir e Mehmet riescono a fuggire. Parallelamente, Asu riesce a evadere dal manicomio seducendo un dottore. Si incontra con Emir, che decide di andare in ospedale per curare una ferita d'arma da fuoco, ma non prima di aver rapito anche Nihan. Una volta in ospedale, Emir viene arrestato dalla polizia. Tuttavia, rivela di avere un asso nella manica. Ha rapito Nihan e Zehir. Offre a Kemal un patto disperato, la libertà per uno di loro in cambio dell'aiuto a Emir per evadere dalla prigione. Kemal accetta, ignaro di cadere nuovamente in una trappola di Emir, che ha legato Nihan a una bomba in un campo minato, sperando che la disperazione di Kemal lo porti a calpestare una mina. Tragicamente, ciò accade. Con solo cinque minuti alla detonazione della bomba legata a Nihan, Emir arriva per salvarla, seguendo un piano ben orchestrato. Ma in un colpo di scena inaspettato, non appena trova l'opportunità, Nihan corre verso Kemal. Emir, nel tentativo di raggiungerla, calpesta a sua volta una mina. Speriamo che il video ti sia piaciuto. Se è così, non dimenticare di lasciarci un like e condividerlo con tutti i tuoi amici. Grazie.